Benvenuti ad un'altra puntata dell'Angolo del Libro. Ospite del nostro studio, Bruno Scapini, ambasciatore, che per molti anni è stato in un'area poco conosciuta, ma che in realtà è un'area di grande interesse dal punto di vista storico, perché ci sono state guerre, battaglie, non si riesce a risolvere la situazione. Ancora oggi è una zona che si può definire una zona di guerra. Stiamo parlando della zona che va sotto il nome più ampio di Armenia, così perlomeno è conosciuta. L'Ambasciatore Scapini ha scritto due libri solo su questi argomenti. Il primo, lo vedete, Operazione Actamar. Di che si tratta? Dunque, Operazione Actamar è la mia opera prima, diciamo, perché dopo che ho lasciato la carriera, per motivi ovviamente di età, ho scoperto di avere questa vena narrativa. E due, tre anni dopo il mio rientro in Italia, ho scoperto che avevo scritto un appunto sulla mia impressione che avevo ricavato della natura, del paesaggio armeno fuori città. Quindi era un paesaggio, diciamo, molto selvaggio. Lei dove aveva la sede, ambasciatore? Io a Yerevan, la sede era a Yerevan, la capitale. E mi sono letto questo appunto, con queste impressioni, e mi sono detto, ma perché non scrivere un romanzo, approfittando appunto del fatto che l'Armenia mi offriva un argomento molto importante, quale è quello per l'appunto del genocidio. E così da lì è venuta fuori l'idea di scrivere Operazione Actamar. 108 anni dal genocidio degli armeni è avvenuto il 24 aprile, quindi del 1915. Ad opera di naturalmente essere i turchi o qualcosa di genere. Turchi ottomani. Ottomani. All'epoca c'era l'impero ottomano e naturalmente, essendo la comunità armena al quanto invisa alle istituzioni ottomane del tempo, è chiaro che l'impero ottomano era considerato il malato d'Europa, come ricordiamo dai testi di storia. E quindi, avendo avuto delle crisi di amputazione territoriale in varie occasioni di scontri bellici, la stessa Turchia del tempo era in preda anche a desconvolgimenti interni. Per cui gli armeni erano considerati invisi, erano considerati dei nemici, in quanto più inclini a favorire un rapporto con la Russia. Ma se vogliamo capire bene la genesi di questo genocidio, se mi consente, vorrei fare un piccolo escurso storico e risaliamo al secolo precedente, esattamente al 1878, cioè l'anno del congresso di Berlino. Perché questo? Semplicemente per il fatto che con il congresso di Berlino praticamente si discuteva del sistema territoriale e politica dell'area transcaucasica, perché c'era stato pochi anni prima un conflitto tra la Russia zarista e l'impero ottomano, conflitto che naturalmente è andato a favore della Russia del tempo e col trattato di Santo Stefano si riconoscevano dei diritti agli armeni, e cioè una certa indipendenza, una certa autonomia. Cosa è accaduto? Che l'impero ottomano, nonostante il trattato di Santo Stefano, ha negato praticamente il riconoscimento di questi diritti, per cui sono iniziate delle forme di insurrezione, di reazione da parte delle comunità armene e questo ha dato adito ai primi massacri contro gli armeni, tant'è che si chiamano questi massacri amidiani, perché sono stati perpetrati proprio su ordine del sultano del tempo, Amid II. E quindi vediamo la prima fase del massacri nel 1995, poi nel 1998 fino ad arrivare al 1900, quando sono venuti al potere nell'impero ottomano i giovani turchi e sotto la spinta nazionalista è iniziata ufficialmente la persecuzione degli armeni. Con la guerra, 1915, ecco che gli armeni sono stati considerati, diciamo, nemici in quanto favorevoli più a un rapporto di amicizia con la Russia ed è iniziata il 24 aprile del 1915 la persecuzione con i primi arresti degli armeni ad Istanbul e da lì poi sono venute fuori proprio le attività persecutorie più letali, addirittura con non solo i cidi di massa ma anche con trasporto delle comunità armenie nei deserti della Siria e molti sono morti proprio durante questa attraversata dei deserti nella Siria. Vediamo che in Armenia sono scontrati russi, ottomani, turchi, azeri e così via, come mai è è così importante questo lembo, che poi non è nemmeno molto popolato, noi non stiamo parlando di centinaia di milioni di abitanti. Sì, parliamo di una decina di milioni. Dunque, la ragione è questa, che l'Armenia è stato un grande regno nell'antichità e si parlava... Non giustifica, non giustifica però tutti questi avvenimenti... Ecco, però il punto di vulnerabilità dell'Armenia è sempre stato, fin dai tempi più antichi, la sua posizione geografica un crocevia tra i limiti di più paesi e di più civiltà. All'epoca antica vediamo l'impero romano e l'impero anche persiano gli scontri tra Roma e i persiani hanno portato purtroppo a coinvolgimento degli armeni, del regno di Armenia tant'è che gli armeni sono stati scoffiti dai romani, per primo, sono stati i romani a dare il primo colpo al regno di Armenia però gli armeni ovviamente sono poi entrati nelle grazie di Roma perché la politica di Roma era quella di valorizzare i regni locali Bastava portare le leggi romane, lasciavano le limità locali, basta che pagavano il tributo famoso Esatto, quindi questo ha portato ad un utilizzo del regno di Armenia come di un alleato guardiano dei limiti dell'impero romano Era la filosofia dei romani, no? Da lì in poi con la caduta dell'impero romano ovviamente l'Armenia è diventata preda di chi riusciva a sconfiggere un nemico e di conseguenza la posizione geografica molto vulnerabile ha portato a questa situazione di crisi fino all'epoca contemporanea tant'è che ancora oggi l'Armenia la consideriamo una sorta di avamposto cristiano in terre islamiche ed è circondata praticamente dalla Turchia che è islamica poi abbiamo l'Iran, poi abbiamo l'Azerbaijan che è anche islamico l'unico paese di fede cristiana è la Georgia ma l'Armenia in sé era il primo paese che ha adottato la religione cristiana addirittura una decina d'anni prima di Costantino Infatti volevo dirle che indubbiamente il fatto che l'Armenia sia così sempre in contrasto con i suoi vicini una delle motivazioni, l'altra l'ha detta lei, ma una delle motivazioni è proprio la differenza di religione però vorrei anche fare un'altra domanda diversa dal percorso che stiamo facendo, guerra e c'è il popolo armenio, quello che io posso conoscere, che conosco anche degli armeni è un popolo di persone molto intelligenti, soprattutto dedite allo studio, dedite al commercio e quindi sono particolarmente abili in molti campi so che sono anche molto ricercati da grosse società che magari gli affidano anche compiti di responsabilità perché sono veramente bravi nel mondo degli affari, nel mondo del commercio Certo, sì sì C'è un livello di preparazione culturale molto alto anche come direi indice di intelligenza proprio è un paese da questo punto di vista che ha delle grosse risorse umane e quindi ha anche grandi potenzialità però purtroppo la sua situazione geografica e politica attuale per cui direi in sintesi situazione geopolitica non consente lo sviluppo di queste potenzialità in quanto con la guerra, con l'Azerbaijan che dura ormai da una trentina di anni e che ancora non ha trovato la sua definizione conclusiva purtroppo questo è un ostacolo allo sviluppo anche economico del paese Senta, parliamo del suo primo libro Operazione Hak Tabar romanzo fantapolitico sul tema della rivendicazione armena per il genocidio subito perché è fantapolitico? In realtà stiamo parlando di questioni come dire perché veramente il genocidio c'è stato l'anno No, no, c'è stato Poi dopo parleremo della situazione attuale che non è rossa a quello che mi risulta E certo, ma è fantapolitica la trama che mi offre diciamo il pretesto per poter denunciare il genocidio ma non tanto il genocidio quanto la mancanza di riconoscimento del genocidio come tale da parte dei suoi artefici e cioè i turchi stessi di oggi che negano l'esistenza di questo genocidio Certo, non possono negare i massacri che ci sono stati però non c'è una intesa tra i vari storici turchi e anche occidentali sull'entità per esempio del massacro I turchi parlano di 500.000 morti ma in realtà ci sono fonti molto più attendibili che parlano di un milione e mezzo altre addirittura di un milione e otto se non due milioni se andiamo a vedere i registri dei monasteri del tempo dove venivano effettuati i battesimi e quindi quella è un po' la fonte anagrafica per poter capire a quanto ammontavano le vittime del genocidio certo è stato un evento traumatico per l'Armenia perché ha provocato un esodo di armeni verso altri paesi che ha creato poi quelle che oggi chiamiamo la diaspora armenia in tutto il mondo ci sono tantissime comunità alcuni ho conosciuto l'Italia per esempio ma sono milioni gli armeni della diaspora soprattutto nell'America, nel sud, negli Stati Uniti, Canada ma anche nei paesi medio orientali in Europa il paese che detiene diciamo un po' il primato dell'esodo armeno è la Francia che conta circa 600 mila armeni oggi come comunità e questo incide anche politicamente sull'indirizzo del governo francese che guarda con simpatia all'Armenia mantiene ottimi rapporti e tra l'altro la Francia insieme alla Svizzera sono praticamente i due unici paesi europei che hanno ufficialmente con tutti i crismi riconosciuto il genocidio armeno come tale cioè proprio genocidio senza nascondersi dietro false parole e false qualificazioni come il massacro armeno l'ecidio armeno no, questi due governi hanno ufficialmente riconosciuto il genocidio e lo chiamano come tale mentre, se mi consente in Turchia oggi parlare di genocidio è reato è reato in questo che stavo dicendo ultimamente è stata una faccenda per cui una questione che è stata riportata dalla stampa della televisione per cui non so chi è che ha parlato di un genocidio eccetera è estremamente arrestato e così via o per cui diciamo operazione Aktamar Aktamar cos'è? una città? Aktamar dunque Aktamar è una leggenda è una leggenda che fa capo ad una piccola isola del lago di Van in Turchia dove esiste e insiste un monastero antico ed io mi sono riallacciato a questa bellissima leggenda proprio per riesumare un po' il ricordo di quello che è l'Asala l'Asala era un'organizzazione che poi è stata definita terroristica perché è nata nello stesso anno in cui è nato il PKK con Ocalan in Turchia ecco io vedrei anche un certo parallelismo tra il destino del popolo kurdo e il destino del popolo armeno perché entrambi sono stati vittime dell'impero ottomano e ancora oggi ne subiscono le conseguenze ma soprattutto i kurdi i quali si trovano praticamente come una grossa minoranza perché si parla di circa 25-30 milioni di kurdi in Turchia e qui si rappresentano ovviamente una forza politica e popolare che pesa sull'indirizzo politico del governo di Ancara o dimentichiamoci che i kurdi con il loro esercito perché hanno un piccolo esercito combattivo hanno aiutato i turchi a respingere l'ISIS e così via queste ultime guerre che ci sono state non i kurdi della Turchia sono i kurdi della Siria e anche dell'Iraq perché anche i kurdi sono divisi in vari clan e in vari paesi e quindi anzi tra loro a volte ci sono momenti di conflittualità questo fa parte un po' della strategia dei rispettivi governi perché ogni governo cerca di aizzare i clan il suo kurdi contro gli altri e questo fa parte del gioco senta Dottor Scapini Art Sack invece cosa confessioni sulla linea di contatto e poi una vendetta potrà mai diventare giustizia? ecco questo è un romanzo molto più psicologico perché mentre Cos'è l'Art Sack che cos'è? Prego Cos'è l'Art Sack è il nome del Nagorno Karabakh in lingua armena mentre in operazione Aktamar io prendo diciamo a pretesto l'idea di rivendicare il genocidio armeno dopo tanti anni e mi invento di sana pianta una sorta di colpo di stato in Armenia camuffato per approfittare di una situazione contingente geopolitica favorevole affinché gli armeni entrino in Turchia e riconquistino le vecchie terre del regno di Armenia nell'Anatolia orientale che aveva come capitale Kars e poi anche la città di Anì ma oggi Kars è ridotta a un rudere armeno anche se sono ruderi bellissimi ancora oggi da vedersi per cui è una trama dicevo di fantapolitica che mi offriva il pretesto di denunciare questo genocidio di cui molti paesi ancora non vogliono accettare l'idea del genocidio come tale e uno di questi è stato per esempio gli Stati Uniti i presidenti degli Stati Uniti hanno sempre in occasione delle elezioni presidenziali hanno sempre promesso le comunità armenie d'America di pronunciare la parola genocidio quindi di riconoscerlo ma in realtà ce lo sono sempre rimangiato questo termine esatto l'unico è stato Biden l'ultimo presidente il quale ha pronunciato la parola genocidio proprio in occasione dell'anniversario del 24 aprile del suo primo anno di mandato però se mi consente una precisazione quando si parla di riconoscimento del genocidio bisogna esattamente vedere come si atteggia la nomenclatura istituzionale del paese che dice di riconoscere il genocidio perché a volte può essere un falso intellettuale un falso ideologico nel senso che se l'autorità che dice di pronunciare e riconoscere il genocidio non è rappresentativa del vero potere decisionale allora diventa praticamente riconoscimento del genocidio soltanto una formalità quindi un inganno se invece è il governo centrale il governo che detiene il potere decisionale dal punto di vista politico beh allora ha la sua validità il genocidio e questo è il caso della Francia è il caso della 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 Svizzera è il caso di tanti altri paesi in Artsakh io invece prendo come riferimento il Nagorno Karabakh anche questa è una terra di insediamento storico armena purtroppo contesa tra due paesi tra l'Azerbaijan e l'Armenia perché è contesa perché fin dai tempi più antichi vivevano gli armeni era un territorio a prevalenza etnica armena parliamo del 90-95% circa della popolazione però Stalin per compiacersi la Turchia durante gli anni del suo regno praticamente ha trasferito l'oblast del Nagorno Karabakh dall'Armenia all'Azerbaijan durante la guerra oppure negli anni 50 negli anni di Stalin è stato un ordine interno in che periodo storico quello di Stalin e quindi massimo 52-50 esatto praticamente durante il periodo in cui Stalin era il governo adesso l'anno esatto non lo ricordo ma parliamo insomma io penso al massimo 50 sì ma anche prima credo anche prima cosa è successo che quando c'è stata la dissoluzione dell'Unione Sovietica ovviamente parliamo del muro di Berlino sì parliamo del 1989 90 91 i tre anni critici in cui abbiamo sconvolto la geopolitica del mondo tutte le repubbliche si sono staccate dalla madre Russia allora cosa è successo che in Russia a Mosca hanno previsto una legge e io la ricordo a memoria questa legge perché è fondamentale per chi non conosce veramente la dinamica normativa legislativa è facile che cada in contraddizioni oppure nella illusione di avere la ragione dalla sua parte che in questo caso sarebbe la ragione degli azzeri la legge sovietica numero 13 dell'aprile del 1990 prevedeva la possibilità per tutte le ex repubbliche sovietiche di ottenere l'indipendenza tramite l'atto della secessione ma non solo le repubbliche ma anche e lo dice espressamente la legge anche le entità substatali quindi anche gli oblast tipo quello del Nagorno-Karabakh cosa è successo? Che quando l'Azerbaijan dissoltasi l'Unione ha chiesto l'indipendenza l'ha ottenuta l'Armenia ha chiesto l'indipendenza l'ha ottenuta il Nagorno-Karabakh quale entità substatale ha chiesto l'indipendenza ha effettuato un referendum popolare che era a favore dell'indipendenza ma gli Azeri non hanno voluto mai riconoscerlo è da lì che è nato il conflitto quindi la questione devo dire è anche semplice se noi la vogliamo analizzare in termini giuridici e quindi conseguentemente politici però si fa un gran parlare di questo Nagorno-Karabakh senza conoscere effettivamente come la realtà dei fatti storici sia andata avanti l'ultima domanda ambasciatore senta qual è la situazione attuale di tutta quest'area di cui abbiamo parlato perché anche attualmente non mi sembra che siamo tranquilli no perché effettivamente come è questa guerra queste cose sono così poche conosciute se è vero si sente parlare del genocidio anche se non si può dire vabbè però diciamo queste guerre combattute ma in silenzio come mai sono così poche conosciute dall'opinione pubblica è vero che la Turchia dalla parte la Russia dall'altra tutte queste realtà che si incrociano esatto la guerra tra l'Armenia e l'Azerbaijan praticamente è scoppiata nel 92 ci sono stati dei segni prodromici già dal 1989 tramite vari eventi anche letali devo dire anche con crimini efferati però nel 92 è scoppiato il vero conflitto tra i due paesi che è terminato con la vittoria degli armeni e in più con l'occupazione di alcuni territori intorno al Nagorno-Karabakh ma di sovranità a zera che gli armeni si sono tenuti come territori cuscinetto per poter consentire il transito tra Nagorno-Karabakh e l'Armenia ora cosa è successo? che questi territori dovevano essere restituiti non è che l'Armenia non voleva io sono testimone perché sono stato in Armenia quindi ho assistito ho assistito anche ai resoconti che i rappresentanti dell'OSCE e cioè del gruppo di Minsk al quale era affidata praticamente la negoziazione dei termini del conflitto ecco io posso dirle che effettivamente non si è mai addivenuti ad una ad una soluzione sulla base di che cosa? Noi parliamo di tutt'oggi ambasciatore Sì sì tutt'oggi è attuale ma ancora più attuale se guardiamo alla guerra del 2020 che è stata purtroppo persa persa dall'Armenia persa dall'Armenia per vari fatti contingenti anche di geopolitica ma la ragione è questa che mentre da un lato l'Azerbaijan pretende di avere l'innagorno Karabakh in base al principio della integrità territoriale l'Armenia invece pretende il riconoscimento sulla base di un principio per me non equiparabile a quello dell'integrità territoriale che è quello dell'autodeterminazione dei popoli questo principio che è consacrato dalla Carta delle Nazioni Unite e dai diritti umanitari che sono cristallizzati in tutte le convenzioni internazionali che conosciamo questo principio dell'autodeterminazione ha plasmato il mondo dal secondo dopoguerra in poi abbiamo forse dimenticato il decolonialismo il decolonialismo come è avvenuto cioè tutti questi stati africani soprattutto che erano parte delle colonie che sono oggi stati indipendenti e quindi autonomi e sovrani come sono diventati tali? grazie al principio dell'autodeterminazione dei popoli perseguito proprio e voluto proprio dalle Nazioni Unite però nel caso del Nagorno-Karabak non esiste si vuole dare la prevalenza per ragioni di opportunità politica si vuole dare la prevalenza al principio dell'integrità territoriale ma quello che io voglio dire non sono due principi equiparabili che possono essere messi sulla bilancia sugli stessi piatti perché l'integrità territoriale attiene a un confine su un territorio e noi sappiamo bene che la storia è stata fatta di confini che sono sempre cambiati in funzione di che? in funzione del destino dei popoli della storia dei popoli della forza di quelli che poi esatto quando invece si parla di autodeterminazione noi qui parliamo di libertà e allora qui entriamo è un popolo che desidera essere governato esatto e quindi noi entriamo nel campo dei diritti umani non solo ma addirittura nel campo dei diritti della persona umana e questo è ovviamente importantissimo se vogliamo vederlo dal punto di vista anche etico ecco perché oggi ci troviamo in una situazione di stallo l'ultima guerra quella del 2020 combattuta nel giro di 60 giorni circa è stata persa dagli armeni ma il discorso lì è abbastanza complesso perché è intervenuta la stessa Turchia che ha aiutato l'Azerbaijan quindi l'Armenia si è trovata confrontata con la Turchia ma non solo ma gli Azeri hanno ricevuto pure armamenti in particolare i droni da Israele quindi questo ha comportato uno sfasamento uno squilibrio di forze al punto che la stessa Armenia ha dovuto poi rassegnarsi alla sconfitta per non arrivare addirittura a peggiorare ancora la situazione ma questa è la situazione attuale quindi diciamo che è una guerra silente per il momento è una guerra silente che si combatte con morti e le voglio dare una notizia proprio attualissima che mi è giunta ieri da fonti attendibili che proprio ieri gli Azeri sono praticamente entrati in territorio armeno non del Nagorno-Karabakh no di bene perché il Nagorno-Karabakh è un territorio che hanno già in parte ripreso ma è quello in conflitto è l'oggetto del conflitto sono entrati addirittura in territorio sovrano armeno nella città in vicinanza della città di Siunic e lì hanno avuto uno scontro a fuoco con morti questa è la notizia di ieri quindi nonostante nonostante c'è stato il fuoco che è stato firmato sotto leggi pure della Russia del Cremlino sicuramente che avranno garantito certe cose però il conflitto è latente è sotto pelle e può scoppiare da un momento all'altro ha dato una notizia interessantissima l'ambasciatore Scapini io lo ringrazio e ricordo i nostri tre spettatori che noi abbiamo avuto ospite l'ambasciatore Bruno Scapini che ci ha parlato dei suoi due libri operazione Actamar e ArtSac confessioni sulla linea di contatto io lo ringrazio tanto poi lei è anche un analista politico quindi spesso quando parleremo di quando affrontiamo qualche problema che necessita di un'analisi politica portata ad alti livelli magari la chiameremo per fare quattro chiacchiere con noi e magari con altri giornalisti e ringraziamo naturalmente anche voi per il cortese ascolto come vedete il Teoro dà anche delle notizie che non tutti quanti danno oggi abbiamo parlato di questa guerra silenziosa e ora continuiamo con le altre trasmissioni però riusciamo dal nostro salotto ci torniamo dopo qualche minuto di pubblicità grazie grazie